Sabato 24 settembre a Capannori è il B-Day, la giornata dedicata al baseball organizzata dalla società DRK Sport di Capannori con la collaborazione della Federazione Italiana di Baseball e il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Capannori si terrà al centro sportivo di Carraia Checchi Calcio dalle 9 di mattina alle 8 di sera. Questa è la settima edizione di questo evento dedicato ai ragazzi della Special Olympics e in particolare all'Allegra Brigata. È uno sport molto inclusivo e lo scopo della nostra società è soprattutto quello di divulgare il più possibile tra i giovani questo sport. Uno sport che possono praticare tutti quanti e soprattutto uno sport molto inclusivo. Nel corso della giornata gli atleti della Allegra Brigata Special Olympics Lucca si confronteranno con altre realtà della Toscana come lo Special Team di Livorno, oltre che con i ragazzi delle squadre giovanili di baseball. L'evento avrà anche un ospite d'eccezione, uno dei più grandi giocatori del baseball americano inserito nella ristretta cerchia dei più forti di ogni tempo nella Hall of Fame della Major League nonché commissario tecnico della Nazionale Italiana di Baseball, Mike Piazza. Il campione, la cui famiglia ha origini siciliane, incontrerà in campo e fuori i giovani atleti e le famiglie promuovendo il valore dello sport in generale e di questa disciplina in particolare come strumento fondamentale per superare barriere e diversità. L'evento è molto importante giocare un sport, anche per il corpo, per il corpo e per la mente.